Ciao tifoso bianconero benvenuti nel canale Juventus oggi. Iscrivetevi al canale, e lasciate un like al video, per non perderti nessuna novità dalla Juve. Coni De Winter, difensore belga che sta giocando in prestito per la stagione corrente all'Empoli, è uno dei giocatori che torneranno alla Juventus e potrebbe avere maggiori opportunità nel club. De Winter ha già disputato più di 10 partite in questa stagione e ha sempre risposto alle aspettative dell'allenatore dell'Empoli, ricevendo molti elogi. Durante il precampionato, De Winter tornerà alla Juventus e cercherà di sfruttare ogni opportunità per restare nel club. A soli 20 anni, il belga è stato considerato uno dei giovani più promettenti della Serie A, tuttavia Massimiliano Allegri non sembra voler contare sul difensore belga per la prossima stagione. Ciò significherebbe che le porte si apriranno per una vendita definitiva e ci sono già diversi club interessati, come il Crystal Palace, il Southampton, il West Ham, il Bayer Leverkusen e il Borussia Mönchengladbach, ovvero una lunga lista di potenziali acquirenti per De Winter. Ciò che potrebbe salvare De Winter sarebbe il ritorno di Antonio Conte, attualmente senza club, che è stato considerato per prendere le redini della Juventus. Cosa pensi di Coni De Winter? Merita una possibilità alla Juventus? O la vendita sarebbe la migliore opzione? A presto!